Ue di Giordano Mazzocchi, nottata con una celebre ex corteggiatrice, La Pizzicata E Niloufar. In questi giorni, più spifferi, hanno parlato di un possibile riavvicinamento tra Giordano Mazzocchi e Niloufar Adlati A scatenare il gossip diversi incontri milanesi tra i due. Giusto però sottolineare che tutte le volte che l'ex coppia è stata beccata a conversare era in compagnia di altri amici Dunque i due stanno tornando assieme oppure no? Chissà. Intanto, ieri, l'ex corteggiatore di uomini e donne è stato pizzicato in piena notte con un altro volto celebre femminile del programma pomeridiano di Maria De Filippi Ieri sera, il 23enne Avezzanese è stato pizzicato fuori dall'Hollywood, a Milano, si legge sul blog Very Inutil People It che aggiunge che era in compagnia di Barbara Fumagalli Modella, ex dentatrice di Temptation Island VIP nonché ex corteggiatrice di Andrea Cerioli a Uomini e Donne, che lo scorso giugno era stata legata ad Andrea Damante Ma non è finita qui perché Mazzocchi e la Fumagalli sono poi stati sorpresi anche a notte fonda Giordano e Barbara scrive sempre Very Inutil People.it sono stati poi nuovamente avvistati verso le 4 del mattino mentre si riparavano dalla pioggia sotto ad un portico Nel video possiamo vedere come lui le metta una giacca sulle spalle Che gesto carino, e Richard Girmuto Il blog ha documentato lo spiffero con tanto di breve filmato che mostra tutte le premure che Giordano ha riservato alla ragazza Due di Nilu fare Giordano, il ritorno non sa da fare Almeno per ora.Non si sa di preciso se tra Giordano e Barbara ci sia solo una bella amicizia oppure se ci sia qualcosa di più Fatto sta che la pizzicata fa scendere le quotazioni di un possibile ritorno di fiamma tra l'ex corteggiatore e Nilu Faradvati Pare proprio che la reunion sentimentale non sa da fare, almeno per il momento In futuro si vedrà, perché dopo tutto, come canta Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, il problema è sapere il quando In futuro si vedrà, perché dopo tutto, come canta Venditti, certi amore di farlo